Antonio Marchi, semplicemente il Tony, impiegato comunale di Arco e assegnato dall'amministrazione arcense alla caserma dei vigili del fuoco di Caneve, è andato in pensione con oltre 43 anni di lavoro alle spalle. La festa si è svolta venerdì, ultimo giorno prima del meritato pensionamento. Classe 1954, Tony Marchi è conosciutissimo in tutta la città, anche per il suo impegno nei vigili del fuoco che porta avanti da quasi 40 anni, dal 1979, e che lo ha visto impiegato in tantissimi interventi su tutto il territorio. Gli ultimi anni di lavoro da dipendente comunale li ha trascorsi nella nuova caserma ed è stato un punto di riferimento. Una scelta decisa dall'amministrazione comunale anche in virtù dell'esperienza e delle competenze da vigili del fuoco dello stesso Marchi. Non è escluso che si decida di indire un concorso per individuare delle figure da destinare proprio alla caserma, dopo una specifica preparazione. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Alessandro Betta, quello che lo aveva assunto Selenio Ioppi, il comandante dei vigili del fuoco Stefano Bonamico, il comandante della polizia locale Marco d'Arcangelo e tanti colleghi dipendenti comunali.